Ci siamo? 3, 2, 1, here we go! E allora, tanta paura per nulla, tanta paura di Eddie Jones e dei suoi trick per nulla E allora, vinciamo a Sapporo, 14-42 risultato finale Hola Burdel, cari amiche, cari amici del canale, appassionate ed appassionate da Paolo Vale Ben ritrovati, ben ritrovati sul mio canale Come detto, l'Italia ha Sapporo in Giappone Sapporo, Sapporo, non so come si dice E domina in lungo e in largo, si fa per dire, perlomeno nel punteggio, il Giappone E conclude questo tour estivo con due vittorie e una sconfitta E una partita questa che, come detto, è molto ampia nel risultato A mio modestissimo parere, come sempre Però lascia, dà qualche segnale, insomma, di non proprio soddisfazione a pieno Comunque, Italia splendida per 30 minuti I primi 30 minuti della partita è un dominio azzurro Con un 24-0 Che è frutto delle mete di Zambonin, l'ultima Pajerlo, la seconda E Enzic, Pozzo, la prima Tre trasformazioni di Gerbisi Poi dopo è uscito per un infortunio abbastanza serio Ma pare che sia tutto quanto rientrato nella norma E un altro cazzo di punizione di Pajerlo che dalla lunga ha veramente massacrato i pali giapponesi Quindi sembrava al trentesimo, al ventesimo, al trentesimo, ai primi 30 minuti Che la partita si concludesse con la passata di salute E in realtà qui c'è un blackout calmoroso Perché dal trentesimo fino al sessantacinquesimo, si può dire così È un monologo giapponese Monologo giapponese che si concretizza con due marcature Che ci trovano veramente impreparati da parte di Rili Il secondo centro sembrava fermo ma in realtà evidentemente era straveloce E due marcature di Rili Tanto, tanto, tanto possesso per il Giappone nella nostra Non metacampo, non nei N22 Davanti alla nostra linea di meta Giappone che... e qui arrivano le mie perplessità Noi abbiamo usato questo tour Per, passatemi il termine Consolidare una campagna di propaganda della Nazionale Azzurra Ovvero consolidare quanto di buono è stato fatto nel Six Nations Purtroppo non è andato a buon fine questo risultato Perché dopo la prima sconfitta Però sapete, in un match di tre, in una serie di tre Quello che avviene per primo, poi dopo magari passo un po' nel dimenticatorio Però in una... la prima sconfitta in Samoa Nella vostra Samoa ha un attimino complicato questo nostro percorso di propaganda del rugby italiano Stavo per dire forlivedo, una deformazione proprio professionale Proprio ancora piena, ancora viva dentro di me E quindi non è stato proprio, diciamo Centrato l'obiettivo della conferma al 100% della Nazionale Azzurra Mentre invece il Giappone, da quello che ho visto io Ha continuato a usare questi test Per testare i suoi progressi Per portare avanti il suo processo di crescita Tant'è che ha lasciato al piede, a mio avviso, almeno 9 punti Dai mezzo ai pali Per andare a provare una rimessa laterale Che non è stata proprio eccezionale Per andare a provare un gioco Che poi comunque a volte si è infranto in qualche piccolo errore Per andare comunque a migliorare questo stile di gioco Che sta cercando di dare Di Jonass alla sua squadra Che tutto sommato qualche piccolo frutto l'ha dato Un gioco fatto di rapidità assurda Cioè spesso i ragazzi erano in difficoltà da placare i giapponesi Perché hanno un fit work veramente clamoroso, assurdo E comunque diciamo che ce la siamo vista brutta Ma abbiamo reagito molto bene soprattutto in difesa Passata la sfuriata diciamo dei nipponici Due calci di Pajero ci hanno messo un attimino in sicurezza Sul 30 a 14 E poi ci hanno persato una meta di astuzia Rapina, furbizia Quello che volete voi Di Alessandro Garbisi Ovvero loro fanno una giocata veramente interessante Quindi un loop che parte dal 9 Con un finto penetrante Vabbè andatevela a vedere E che gli è cascata libero la palla E con un gioco al piede siamo riusciti ad andare in mezzo ai pali E Garbisi l'ha schiacciata E poi ecco la meta finale di Ross Vincent Che concretizza una superiorità clamorosa della nostra mischia Con 42 a 14 finale E notte dolenti No, dolenti no Non c'è nessuna notte dolente È stato un match che Si, ci ha visto come tutta la serie Come tutto il tour è abbastanza in affanno Perché siamo abbastanza stanchi È stato un grande breaks Perché è difesa È stato veramente il babbo di tutti E Marine è entrato Solo a seguito di infortuni di Garbisi Questa è una cosa che non capisco Come altre di questo tour Marine su 240 minuti di gioco Ha giocato 27 minuti È entrato al 15 minuti l'altra partita E 12 questa Ti porti dietro un'apertura per non farla giocare Quando in quello spot Non hai tantissime altre alternative E sei abbastanza coperto Zanon ha giocato gli ultimi 10 minuti anche lui oggi Qualcosa del genere Poco più, poco meno E François May Si è fatto una bella vacanza Odiese si è fatto una bella vacanza Seb Negri l'ha importato Era sgualcito E è rimasto sgualcito Quindi abbiamo giocato con uno in meno Vabbè, insomma Comunque una scelta Che io non ho assolutamente condiviso Quella delle convocazioni Dell'utilizzo dei giocatori Sin dal primo tempo Dal primo minuto Però Non sono il selezionatore Evidentemente che Zanon ha qualcosa di definito in testa E in questo momento I risultati gli stanno dando ragione E Se facciamo lo storico Tutto il suo percorso Io direi che comunque sia Aspettiamo il prossimo Six Nation E vediamo se c'è questa conferma Che tutti quanti ne aspettiamo Perché Come detto Più e più volte Il Six Nation appena concluso Credo che sia figlio anche di Alcune situazioni Abbastanza Anomale Come un ricambio generazionale Completo Come una World Cup Che ha usurato tantissimo Gli europei In particolar modo Gli inglesi Gli irlandesi Come un cambio generazionale Come ha detto Farrell Ha detto che non batto in nazionale Come tanti cambiamenti Con Dupont E Tammac La Francia ha dovuto fare a meno Dupont E Tammac Il primo per Il Seven Il secondo per infortunio Insomma È un Six Nation Il figlio di tanti eventi Che noi abbiamo saputo Sfruttare alla perfezione E Niente Questa partita Si è riuscita a farci dare Due gialli Per falli Uno per falli Ripetuti A Vincent Ross E un altro Però Un colpo di testa Placcaggio testa a testa Di Lucchesi Fra l'altro Credo che Lucchesi Fosse stato graziato Nel contatto testa a testa Precedente La squadra nipponica Ha marcato un'ultima meta A 5 dalla fine Che non gli è stata concessa Perché Menoncello Ha salvato veramente Con una gran giocata Da babbo Sul placcaggio Ha anche toccato il pallone Del nipponico Che stava schiacciando E Comunque sia Loro Sul gioco Sull'accelerazione Sul gioco veloce Ci hanno sempre messo in difficoltà Non siamo quasi mai stati Non si siamo quasi mai fatti Trovare pronti Sulle loro partenze veloci Da punizione Il loro pilone Ci ha fatto ammattire Sulla loro tush Giocata Dove era Paff Giocata veloce Con un passaggio La di dietro Insomma Sono una squadra Che sta cercando di giocare Una squadra Che sta cercando di crescere E hanno usato questi test Per fare questi esperimenti L'unica cosa Che rimprovero A Eddie Jones In questo momento È L'essersi Loro hanno veramente Una grossissima capacità Elusiva Ovvero Di uscire dal frontale Di mettersi in difficoltà Come ho detto prima Col footwork Invece Nel momento in cui Loro dovevano magari Prendere punti al piede Hanno giocato la rimessa laterale Anche qui Macello Perché penso che Il nostro miglior Portatore giù di rimessi Si è stato L'Amaro Con quattro prese Anzi loro addirittura Comunque al di là di questo Hanno cercato di Andare sul forte Sul verticale Sul dritto per dritto Sulla battaglia fisica Area di gioco Dove siamo Abbastanza afferrati Mi verrebbe da dire Quindi direi Che avrebbero potuto fare altre scelte Però tutto sommato Ci sta Perché in un percorso di crescita Va bene anche questo Mentre un 14 A 42 Che Soddisfa sul punteggio Porta Fieno in cascina Nelle statistiche Perché intanto poi Come avvengono le vittorie Non è importante Perché fra uno o due anni Non si ricorda più Rimane sulla carta La vittoria Io ricordo una vittoria Con il Galles Con l'Arbo Che dice Se si è andati in Tush Che c'è tempo Appena loro vanno in Tush Partita finita Ma come Se comunque Agli annali Rimane che abbiamo vinto E niente Adesso finalmente Per i ragazzi Stasera Un bel terzo tempo Come si conviene E poi finalmente Il meritato riposo Che siamo già Al 21 di luglio E fra un po' Bisogna iniziare a preparare La prossima stagione Che è un mestiere infame Quello del giocatore di rugby Scherzi a parte Complimenti a tutti quanti Per veramente Questi 13 14 mesi Iniziati a dicembre 2022 Con la preparazione Six Nation 2023 E portati a termine Oggi Alla veramente grande Con il massimo impegno E la massima professionalità Da parte di tutto il gruppo Preoccupa L'Ainaga Uscito per una botta A ginocchio Saranno contenti I tifosi di Treviso Che stanno facendo Tutti gli scongiuti Di questo mondo Perché l'Ainaga Ha dimostrato di essere Veramente un grandissimo Giocatore Un grandissimo acquisto Per i loro di Narmarca Garibisi come detto Le notizie Le prime notizie Che arrivano Paiono essere incoraggianti Sul suo È uscito per un colpo in testa Veramente clamoroso Su un placcaggio Ha messo male la testa Secco per terra Però Dal Giappone Arrivano notizie positive Cioè nel senso che Ha risposto bene Alle cose Non diciamo niente Però Dovrebbe rientrare Tutto nella norma E Rimango sempre Per molto 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 E aggiungo ancora Un'altra volta Molto Perplesso Sull'utilizzo Della completezza Della ampiezza Della rosa Detto questo Boom Oggi è domenica Vado A prendere un po' di fresco Perché non ci si sta Qua dal caldo Un ringraziamento A tutti quelli Che mi seguono LikeBizet10 Like, dislike Commentare sempre Tutti i canali social Vi ringrazio Fate pubblicità Al mio canale Che vogliamo crescere Un pochettino Come community C'è ancora il sondaggio Da votare Manca Ancora qualche ora La chiusura del sondaggio E ve lo trovate Sia qui Nella community Che sul canale Telegram E anche su Instagram Datemi questa soddisfazione Così più voti Metto assieme Più posso fare Un bel video Per completezza Su questo Su questo argomento Fatevelo vedere Hola Burdel Grazie a tutti